Il dono che abbiamo ricevuto è un fuoco, è amore bruciante a Dio e ai fratelli. Il fuoco non si alimenta da solo, muore se non è tenuto in vita, si spegne se la cenere lo copre tanto. Se tutto rimane com'è, se a scandire i nostri giorni è il si è sempre fatto così, il dono svanisce, soffocato dalle ceneri, dai timori e dalla preoccupazione di difendere lo status quo. Ma in nessun modo la Chiesa può limitarsi a una pastorale di mantenimento per coloro che già conoscono il Vangelo di Cristo. Lo slancio missionario è un segno chiaro della maturità di una comunità ecclesiale, perché la Chiesa è sempre in cammino, sempre in uscita, mai chiusa in se stessa. Gesù non è venuto a portare la brezza della sera, ma il fuoco sulla terra. Gesù non è venuto a portare il Vangelo di Cristo,